buongiorno il mio piatto che ho preparato per la fiera del tartufo e questa zuppa l'ho chiamata zuppa una zuppa in tazza di pane rafferno con uovo poché cotto a bassa temperatura a 62 gradi formaggio di alpeggio della mia vallata quindi valpellice val sangone e tartufo bianco d'alba un piatto che faceva mia nonna questa zuppetta e io l'ho abbinata all'uovo chiaramente nella mia vallata non c'era l'uovo l'ho abbinata all'uovo uovo e tartufo un abbinamento straordinario quindi voluto fare questo piatto ricordando un po il mio territorio e ricordando il momento un po particolare che abbiamo in questo momento in europa in italia quindi un piatto di una semplicità incredibile valorizzando con grande materia prima che il tartufo bianco d'alba il tartufo bianco d'alba che è il gioiello della nostra terra grazie a tutti Grazie a tutti